Questo tavolo dei relatori più panel che si avvicineranno nel corso della giornata ci sono almeno 5 università italiane, tra cui la Sapienza, l'Università della Basilicata, l'Università dell'Aquila ed altre, portati tutti qui nell'abbazia di San Clemente a Casauro in un giorno che si innessa nel programma del Festival d'Annunziano perché fu Gabriele D'Annunzio a un certo punto a vedere l'abbazia in grave abbandono e a rilanciare l'attenzione su questo sito. Perché? Perché noi siamo convinti che dalla conoscenza, la tutela e il rilancio di manifestazioni di vario livello, da quelle più scientifiche, culturali e approfondite a quelle più aggregative, possa nascere un grande fenomeno economico da una parte e di maggiore consapevolezza della cittadinanza e di tutela quindi di questi luoghi. Io credo che oggi si sia fatto un grande lavoro per l'area del Casauroense e per l'intera provincia di Pescara. Sono molto contento della qualità dei relatori che si susseguiranno durante la giornata che poi prevederà anche animazione da parte di gruppi di revocazione storica, i rapaci per la falconeria, un momento in cui anche le famiglie troveranno possibilità di fruire di questo splendido sito.